Il passato non è il nostro destinato Se preferisci di esplorare, potremmo fare una bistecca nemmo mai cotta Ah, vedi che bisteccone, zio vera Moooooo E questa che fai intanto a svinchi svinchi mo Bello croissant Il ragazzo dei trentuno, capo Di nuovo giorno, alleluia I pray my effort aid your cause Rivello quindici mago, stella Ma chi te sei in cura? Ma dove sta Shen Chao qua? Ma ci ha riportato un città? Sì, siamo arrivati tanto Questo è quello che mi ha battuto Ammazza, rimane pettera Figa Ah Carne stagionata Mi sa che non eravamo passati da qua Perché stanno tutti sti mostri qua? Sì 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 dunque incantesimo rapido lo usa un po di più aspetto tutti sti mob qua spero stessero difendendo qualcosa di importante una carne essiccata ah lì c'è una cesta queste sono tutte ceste che raggiungi solo se c'è tipo levitazione perché come cazzo ci arrivi se no scheggia di cuore di drago vabbè niente d'assurdo l'assassino ha il doppio salto ma ma c'è stato esatto de movimento ognuno c'era una cosa perché se no dice che c'è un'altra cosa qua ah là sopra però là sopra ci arrivi con levitazione fammi provare no in realtà forse manco con levitazione forse ci arriviamo da qua vediamo un po' oh goddio che fucilata per te era come cazzo ci arrivi se devo rampicare qua sopra penso no ma come cazzo arrivi là dici la maggiere ghiaccia se fanno una pedana vediamo un po' eh no ma questa se gli sta rompe oddio vabbè insensato anello della saggezza ah ma se si poteva semplicemente rampica da là tra l'altro era una cazzata ma vaffanculo anello della saggezza aumenta la magia però eh beh io me lo equipaggio subito questo se da il gatto tammi oddio stanno un po' baggando anche loro eh c'è da dirlo questo da il gatto tammi dai e lui mo c'ha un bel c'ha un po' più di vita che so pesante io ah ho raccolto tipo qualsiasi cazzata beh qua c'è da fare un attimo di pulizia pure qua ok allora noi dobbiamo tornare in città ma se uso sto acquedotto per tornacce sarà interrotta una certa no senti scendiamo qua non sembra un posto dove però ma non levita ma che fa ma che fa guardia dai forza tutto dritto per la città certo e mo so curioso ti pare che non c'è un tesoro rarissimo che ti fai tutto per dritto a sta cosa mmm ah però da lì puoi rimboccacce me sa no allora no oh uno zucugar questo è la tua porta alla stazione di posta la stazione di posta posta è figa anche questa ma quel villaggio non l'abbiamo visto mi sa di no è figa pure sta cosa dei carri perché appunto non essendoci viaggio rapido quanti cazzo di carri stanno partendo non accetto passeggeri ma sta che caretto bello che zucugarretto mattacchione sto zucugarretto mattacchione ma non è a questa chi c'ha chiesta ah l'armaiolo era comunque questo è il classico gioco questo è troppo e non lo riapri mai più non te ricorderai in cazzo con le pietre potete raggiungere un istante il luogo in cui si trova un telecristallo questi ultimi sono visti all'interno delle città ma puoi anche posizionare alcuni mobili nelle lezioni che più ti aggradano i limiti delle posizioni in vari luoghi in giro per il mondo è 10 se vuoi spostarne uno che hai pezzato basta recuperarli potete raggiungere quelli che questo è un telecristallo esatto si bu questa levitazione mi pare non c'è un modo per annullarla cioè devi ripremersalt allora l'armaiolo era sto stronzo ma cazzo vuoi cambiare la tua classe adesso ok perfetto perché c'è una cosa gialla qua ma questo è quello che hai rubato la scatola decorata ecco dai la scatola decorata una scatola decorata di eccezione fattura eh damo gliela chi è? non ce l'ho accion niente questo sono già due volte che lo stiamo aiutando sto pezzo di... ricevi la ricompensa da sventa da qualche giorno dice che c'è una cassa ma dov'è? sta tipo dentro qua si diciamo l'IA è ok si bagchicchia eh c'è da dirlo porta le armi che ho tenuto alla gilda sta lì ah questa vedi è a tempo questa missione pure ti devi pure sbrigare cioè dobbiamo farla velocemente perché sennò scade cerco la vanworth da qualche giorno per ricevere le ricompense e ti spetta per la scatola decorata ma che scrive Matteo? è pazza porta le armi alla gilda andiamo a sta gilda ma è qua? ma questa è la locanda non voglio tipo Samme perché dice di seguirla? cazzo vuole? può essere ok ok è sbloccato la classe stregone questo era rifornito a breve 7500 molloni una barca di exp imperio dono del fuoco questa non c'era prima grazie argentata recuperi istantaneamente tutta la salute dell'utilizzatore o di un alleato non ripristino la barra di perdita bah setta concentrata capacità classe ah perché questo si è a rango scusa ma siamo più o un'altra un'altra classe cioè non so più un mago ovviamente non è che mischia divento mago o stregone cioè puoi essere o mago o stregone le spelle sblocchi quando sali di rango e non di livello si si immagino di si sarà il rango partita 0 senza le magie da mago le possibili che sblocchi le puoi mettere in ogni classe ok lista capacità sperità stasi costanza catalisi sagacia questo poi si in base alla roba comunque fammi abbiamo una repulsione magica che non si butta abbiamo pure questa 100 vabbè lasciamo lascio mago si no levitazione è un'abilità di classe penso intenda le capacità queste oddio la gola è un singello magico che aumenta la velocità degli alleati nel raggio d'azione la velocità degli alleati in che senso solo a corre o a castare eh c'è un po' di mal di gola no perché mi brude tipo vicino a dove c'è quel coso che non mi ricordo mai come si chiama quindi devi fare tipo che così ti gratti l'uco 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 boh stregone quello ti dava cose strane boh se potrebbe far più gatto potrebbe tammi il gatto può cambiare tammi il gatto o potresti fare distruttore usano i loro spadoni per fendere anche i nemici più colossali la loro forza consente lui resistere gli attacchi e sopraffare il nemico il fatto è che come siamo messi cioè io gioco il mago come server tank quindi tammi il gatto guerriera è preciso tank è quello il fatto che so le vocazioni guarda ma sblocca stregone vediamo che succede gli stregone brandiscono degli scettri per lanciare una vasta gamma di potenti magie le loro raffiche possono ribaltare le esime battaglie in un istante teni premuto Y per usare galvanizza per recuperare velocemente la resistenza lanciare incantesimo richiede parecchia a livello fisico una gran quantità di resistenza fascia squamata ma ci ha dato pure un equipaggiamento diverso rango 1 però fiammata letale ce l'abbiamo comunque ma forse è condiviso ma anche folgore mortale ce l'abbiamo anche il glacem what non ci abbiamo più la cura evoca delle fiamme che strisciano in avanti sul terreno le fiamme rimangono per un po' infliggono danni continui a tutti i bersagli che toccano tuono esplosivo evoca una sfera di fulmi che si scagli sui amici vicino automaticamente mi fanno cagare ste spell accumula la maggior prima di scaterale una potente esplosione lui c'ha la rivoluzione magica no questo ma perché le dobbiamo sbloccare proviamo a usare sto stregone però il tanto il fatto è che continuiamo a usare le magie del del mago per ora proviamo infatti vedi ti ha dato l'equipaggiamento dello stregone allora aspetta quindi usiamo la corna delle catombe meglio sto diadema qui non posso usare più la veste che ho comprato una barca dei soldi però si opera e mo sottiltato poi possiamo depositare questa roba esatto perché fa così ah perché siamo molto pesanti ma mo non c'ho più levitazione no ce l'ho oh eeeh e qua perché ce l'ho ancora levitazione forse per me è una cosa sbloccata che sa vediamo lo cazzo si depositava la roba galvanizza cosa questo è tipo se usi la stamina e ti cura ti cura la stamina con y e ci sta l'alto te cura certo ma non ci abbiamo più un healer potrebbe essere un problema allora allora deposita i pugnali questo 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 è ancora molto pesante ma perché zio porco ah ma perché sono pieno di mondezza allora famo una cosa andiamo a potenziare potenziabile e adesso veniamo vediamo un po' che coglioni sono mal di gola ma proprio un modo da venire allora questo se proprio buon siamo ce l'avemo usamoli corno di minotauro mia smita l'ho trovata cristallone nero marta mia smite perché c'è solo dai dammi il gatto zio vera non penso venda altra roba questo vende il cappuccio del monaco e questo già lo vediamo più a prima ma non l'ho preso ebbe da piano armatura meglio il gatto tammi in realtà veste ah questa era la veste dello stregone che stronzo che ho comprato questa qua questa è la veste buona sua eh ma a me vado a dare gli dieci bomboloni monestamente gli stivali terza ma sta mutande cioè ti fa metti gli stivali ma non ma non c'è i pantaloni o ce l'ho no ce l'ho sono questi il gatto dammi potenziare io ho scudo oh scudo io ho porti a tre e che succede in alta potenziata a tre niente potenziata al massimo fine pelle di coniglio allora anzi facciamo un'altra roba aspetta aspetta prima di vendere pure facciamo oggetti combina i ricostituimenti tanto so boni cura l'inzuppamento treccia oleosa no sta roba non c'è interesse ok qui ci dai capo vendi poi comunque devo vendere della roba perché c'è troppa mondezza tanto questa te la tirano appresso sta roba questi no mi rami vendi cura l'avvelenamento panacea no questo si questo no questo no trecce non ci servono un cazzo questo si si vendi sarebbe in realtà da depositare più che da vendere ma che ci penso vabbè ormai dente d'oro putrido forse forse questi occhi non andrebbero venduti perché tipo so del ciclope si saranno introvabili introvabili dai adesso dalla roba non la vendola questo si può vendere sti cazzi per dire la vado a depositare la vado a depositare la vado a depositare eh sì tanto poi ci serviranno per chi li vuole vendere perché occupano spazio però se si possono depositare oh deposita tutto qua no questa non la deposita che la vado da un tizio questo deposita panacea deposita questo deposita e questi si li portano tanto non pesano tanto ok 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 allora ritira ritiriamo la missiva a posto e ci abbiamo dell'onice qui ma chi cazzo ha depositato uberi ma chi cazzo ha posato a sta roba belle di bestia boh tiriamo un bello salvataggio all right si guarda che stronzo a random ok andiamo la fermata questa qui andiamo a fare la missione del carro le famo questa e poi penso che andrò a morire perché mi si sta a cominciare a abbassare la palpebra ma chi è sto matto ma mi ha pure ciucciato cento monete ma vaffanculo cioè questa è la fermata dell'autobus guarda che figo però che ci so tutta la gente che sta realmente aspettando l'autobus carino eccolo eccolo ma noi siamo erbietto me so quindi muo entro e mi siedo sei solito a bordo di un carro i compagni miei tu cazzo se siedono mi sa che in se siedono beh ma non parte ma non parte la scatola ricompensata qualche giorno e non è perché voglio girare la sigaretta ecco perché lo sto a fannare è proprio cucolata cazzo vera cazzo 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 perché sicuramente se prima y non sbucano dei mostri quindi aspetta un attimo vido sigarette e via non penso riusci a fare 4 oggi mi sto mi sto per acchioppare il bramino come spinge lo zucubro lo zucubro ok certo questa musichetta vedete questo che porta al carro si posso dire se gode qua proprio sta in comode eccoci qua configgi tutti i nemici morcodio che cazzo è tre barre di vita insomma c'è romper puro sto premio no ma c'ho comunque pure incantesimo rapido zio vera eh ma c'è un problema io mo non curo più quindi non ci abbiamo lì l'ermo ancora è saltato il carro no dammi il gatto devi tankare porco dio porco dio mamma ha shotato vede tankar verso minotauro capo dov'è è il fogo gli fa male capo vai dammi il gatto eh ma mo c'è piena romper cazzo il memeto oddio non si vede un cazzo due colpi morto e a a a a